Si è spento uno degli storici panificatori della città. Crocifisso Moscato, conosciuto come Spascia Maronna, aveva 84 anni. Al termine della giornata lavorativa, passata come sempre nel panificio di Via del Sarto a Settefarine, ha accusato un malore improvviso che gli ha strappato la vita in pochi istanti davanti agli occhi increduli della figlia. Nella sua attività era molto conosciuto. Crocifisso era un figlio d'arte, visto che aveva ereditato la passione proprio in famiglia, passione che anche lui ha tramandato a figli, nipoti e pronipoti. Siamo ancora morto scosti per l'improvvisa perdita che abbiamo avuto ieri improvvisamente. Come non ci aspettavamo tanta gente che lo amasse così tanto, ringraziamo tutta la gente veramente che ha pianto veramente per lui. Mio nonno era, voglio ricordare solo, che era una bravissima persona, era amato da tutti. La cosa che più mi resta in bresta, il ricordo più bello di mio nonno non è uno, i ricordi di mio nonno sono tanti. Mio nonno, il ricordo più bello che è vederlo lavorare al panificio, che è una passione che si tramane da generazioni e generazioni, dal padre. Quindi mio nonno ha iniziato a lavorare all'età di 17 anni. Mio nonno era il nonno un po' di tutti. Noi per questo vogliamo ricordarlo che è stato un grande lavoratore. Dall'apertura di ieri pomeriggio della Camera Ardendi in via Pacinotti, tantissimi gelesi che hanno voluto portare l'ultimo saluto a uno dei panificatori più antichi della città. Vi ringraziamo tutti, non ho parole, anche perché sono al momento un po' scossa. Amava tanto la sua famiglia, i suoi figli, i nipoti, i pronipoti. Noi per questo lo ringraziamo tantissimo per tutto quello che ha fatto e ha fatto fine alla fine. Quanti siete i nipoti e i pronipoti? Nove nipoti e quattro pronipoti. Una gioia portava anche i pronipoti al lavoro con lui? Sì, sì, i miei figli, anche qualche altro nipote, andava al forno ad aiutare anche il nonno. E anche qualcuno di loro ha questa passione che gli ha tralasciato fortunatamente qualcuno. Diciamo fortunatamente perché è grazie a lui che noi siamo giunti a tutto ciò. Oggi si svolgeranno i funerali presso la chiesa San Sebastiano Martire alle 17. Immagino di vedere gente che compra il pane, immaginerò sempre mio nonno, per sempre, nei nostri cuori.